Buongiorno e ben ritrovati per la nostra consueta trassegna stampa del mattino. Siamo qui per vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo mercoledì 30 agosto. Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine per scoprire insieme quali sono gli argomenti principali, i temi caldi di questa giornata. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo dal quotidiano La Sicilia, tanti anche questa mattina gli argomenti in primo piano. Si parla ad esempio ancora dell'aeroporto di Catania, cul de sac, questo il titolo, appoggi trasversali al sindaco Trantino sull'azzeramento del CDA della società che gestisce Fontana Rossa. Tutte le accuse ormai lo sappiamo, l'abbiamo visto e la sindaco di Catania Enrico Trantino ha chiesto le dimissioni del CDA della SAC, quindi la società che gestisce l'aeroporto di Catania dopo i fatti avvenuti nelle scorse settimane, l'incendio e poi tutti i disagi che questo ha comportato. Altre notizie in primo piano e in prima pagina sulla Sicilia, la manovra caccia ai tagli tutti i ministeri sotto pressione, ricognizione di risorse e sprechi dall'opposizione timori per la sanità pubblica. Occhio invece all'ennesima stangata sull'energia nella bolletta previsti aumenti anche del 10%. Imprese e professionisti in coro sul super bonus, Meloni sbaglia e poi l'urlo della ragazza stuprata a Palermo così mi portate a morire, mentre bufera sul compagno di Giorgia Meloni per una frase pronunciata a proposito di questo argomento, di questo tema così delicato. Intervista pagana sui roghi dice la mano dell'uomo ha inciso più del caldo, il sistema ha risposto e poi il commissario Giugni depurazione, il 60% di interventi in Sicilia attuati in tre anni. In taglio alto da oggi il Festival di Venezia Cinema Italiano in Salute apre Favino comandante eroe. Giro delle città, Catania, cadaveri in auto si ipotizza un suicidio, prelievo organi invece all'ospedale San Marco sempre a Catania, tre mestieri tra i rifiuti, documenti, ti denuncio. A Taormina invece pulizia del Corso Umberto con mezzi green, mezzi elettrici. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, restiamo chiaramente nell'isola con il giornale di Sicilia. Tra le altre cose si parla del super bonus nelle secche del super bonus, questo il titolo. In Sicilia restano bloccati ancora 500 milioni con almeno 14.000 aziende in attesa di risposte. L'allarme dei costruttori, basta con la scusa delle truffe, così si ferma la ripresa. Si è aggravato invece il peso sui conti dello Stato quest'anno, 23 miliardi. Questo è il bilancio dell'Enea per i lavori edilizi fino a luglio. Migranti espulsi ritornano, 24 gli arresti nel Trapanese e poi la manovra. Landini si rivolge a Giorgia Meloni, parti sociali da sentire. Davide Grassi, c'è chi non segue l'esempio di mio padre, ieri il ricordo di Libero Grassi, ovvero l'imprenditore ucciso da Cosa Nostra, ucciso dalla mafia, poiché si era ribellato al pagamento del pizzo. Ampio spazio al calcio, ieri la Serie B con il Palermo che ottiene la prima vittoria in campionato 3-1 sulla Reggiana. Il Palermo dunque cala il Tris, vedete asfaltata la Reggiana in trasferta. Lo stupro di Palermo, la ragazza violentata trasferita in comunità ha lasciato il capoluogo siciliano e poi bufera per le parole del compagno della Premier Gianbruno, donne ubriache, bufera appunto su Gianbruno per queste frasi dette in TV. La mamma della bimba caduta dal balcone e fuori dall'incubo e questo certamente ci fa molto molto piacere. I stanze da venerdì per il nuovo sussidio online, ecco come chiederlo. E poi batosta stangata per le famiglie italiane, prezzi in aumento per l'elettricità, bollette più salate e anche per il gas. L'interviste dell'estate sul giornale di Sicilia, Andrea Tidona da modica al salto nel mondo del cinema e del teatro. L'isola, dice, è una terra speciale. Proseguiamo con la nostra rassegna, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica. Partiamo da questo argomento, mezzo miliardo per i poveri, ma dov'è? Un dossier della CGL sui fondi statali ai distretti sociosanitari siciliani negli ultimi cinque anni. E poi le storie e la vita sospesa degli esodati del reddito di cittadinanza. Mentre, ampio spazio nuovamente allo stupro di Palermo, così mi portate alla morte, parla la diciannovenne violentata al foro italico, perde il coraggio, scrive Repubblica, non ho più voglia di lottare, né per me né per gli altri, non posso aiutare nessuno. Intanto i legali del branco preparano una difesa comune, ancora uno sfogo social della ragazza che, l'abbiamo visto prima, è stata poi trasferita in comunità. Parla Alessio Boni e come fosse finita, ora è un'altra donna rovinata per sempre. È davvero una storia, dicevamo prima, un argomento, un tema molto molto delicato. Il calcio con il Palermo che si sblocca a Reggio, una tripletta per la prima vittoria in campionato, 3 a 1 contro la Reggiana. L'emergenza invece rogobello lampo, i danni adesso salvano a 4 milioni di euro, la RAP rischia. Mentre il caso Preti trasferiti, la delusione dei parrocchiani, fra due settimane cambieranno i parroci di 31 parrocchie dell'Arcidiocesi di Palermo, una sorta di turnover ecclesiastico con sacerdoti spostati dopo 40 anni e altri invece dopo poco tempo. I fedeli, molti fedeli, sono delusi da questi cambiamenti, da questi spostamenti. Lasciamo Repubblica a Palermo, andiamo a vedere l'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica. Si parla di manovra e dello scontro nella maggioranza, questo il diktat della Lega, il ministro Calderoli. L'autonomia regionale deve essere legge entro l'inizio del 2024. I fondi per garantire il Sud si trovano. Il progetto è fermo in commissione, mancano le risorse per finanziarlo. Per Meloni il federalismo non è una priorità. A proposito di manovra, dicevamo, nel governo allarme per gli extracosti del superbonus. Lasciamo Repubblica, questa è la prima pagina della Corriere della Sera. Conti, la sfida della sanità. Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità serve un accordo entro l'anno. I possibili piani sull'uso delle risorse. Giorgetti deciso a non modificare il deficit. Landini invece invoca una convocazione da parte della Premier. Cronaca invece da Milano in bici travolta da un camion strage di ciclisti a Milano. L'incidente, la 28enne Francesca è la quinta vittima dell'inizio di questo 2023. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere la prima pagina della Quotidiano, il giornale. Qui tra le altre cose si parla di emergenza migranti, la manovra dei migranti, buco nei conti, scrive il giornale. Il kit di ingresso vale 350 euro, poi ciascuno costa allo Stato 945 euro al mese, più del reddito di cittadinanza. La permanenza media è di tre anni una voragine, scrivono i colleghi del giornale. Privatizzazioni, caccia a 4 miliardi, MPS, poste, ITA, l'idea è cedere alcune quote e si tratta sui porti verso la legge di bilancio. E poi altro che popolo senza reddito, il corteo di energumeni e ultraviolenti. Questa protesta avvenuta appunto nel napoletano dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza. Il quotidiano La Stampa, alcol e stupri, scoppia il caso Gianbruno, la vittima di Palermo, mi state portando alla morte, il compagno della Premier, bestie, ma se bevi incontri i lupi, questo il suo pensiero. Superbonus, 30 miliardi bloccati, oltre 200 famiglie in attesa di riscuotere i crediti, Landini, il governo ci convochi subito. Governo che apre alle privatizzazioni nel dossier MPS, quote di Eni, patto di stabilità, tensione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E poi la cronaca, abbiamo visto prima questa notizia, questa tragedia da Milano, Francesca e la Spoon River dei ciclisti, schiacciata da un camion a Milano, aveva 28 anni. Pensate un po', sono 126 le vittime dall'inizio dell'anno, davvero numeri che fanno riflettere. Il Fatto Quotidiano apre invece con il caso Gianbruno, che non si scusa e inguaia. Meloni a Caivano, il compagno della Premier, imbarazza anche Mediaset. Se non bevi, nessun lupo. La famiglia Berlusconi silente per non rompere con la Premier, quindi non rompere con Giorgia Meloni. Il Quotidiano, il Tempo invece, si parla anche qui non soltanto, vedete, di sbarchi, comunque emergenza, rotta, balcanica. L'Unione Europea resta a guardare anche sugli ingressi a nord-est, con Trieste ormai al collasso. Appello del primo cittadino che chiede aiuto al Governo, siamo davvero al limite. Arrivi da record e con l'avvicinarsi dell'inverno prevista un'altra impennata. Allarme anche nell'Adriatico per la scoperta di una nuova specie di granchio blu e poi Meloni. Alla Campagna d'Europa, tre dossier sul tavolo, patto per la crescita, Tunisia ed elezioni comunitarie. Andiamo avanti, lasciamo anche il tempo. Questa è la prima pagina del Quotidiano La Nazione che apre con la manovra tagli a bonus e agevolazioni. Il Governo cerca 20 miliardi, sforbiciata orizzontale agli sconti fiscali, risparmi per i ministeri, meno soldi a sanità e pubblico impiego. Nella piattaforma del reddito di cittadinanza ci sono intanto 25 mila offerte di lavoro. Colloquio con Ellic Lein, referendum Jobs Act, il PD con la CGL. Queste le parole della leader del Partito Democratico. E poi in taglio centrale la notizia da Milano, morire in bici a Milano, ragazza bolognese uccisa da un camion in pieno centro, undicesima vittima del capologo Lombardo da inizio anno. Dalla Nazione al Quotidiano Libero, anche qui si parla della polemica dopo le parole di Gian Bruno. Quanti ubriaconi contro Gian Bruno, ragazze state lontano dall'alcol per evitare le violenze. Queste le parole del giornalista. Il compagno della Meloni manda in tilt la sinistra, ma un articolo uscito sul Fatto, sul Fatto Quotidiano, conferma che ha ragione. Elicchlein invece pretende una legge antifascista. La segretaria del PD ingolferà il Parlamento con la sua ossessione. A proposito invece di emergenza migranti, una manina estera dietro il boom migranti. Questo il sospetto di Palazzo Chigi. Lo sport, come ogni mattina, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In primo piano ci sono le due milanesi, Milan e Inter. Vediamo le stelle. Questo il titolo è già derby. Nella corsa al ventesimo scudetto entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite di campionato e dunque sono in testa a punteggio pieno con sei punti insieme anche al Napoli. Dunque il derby a distanza, in attesa poi dell'incontro che arriverà a breve, è già partito. Mentre Lukaku è il nuovo attaccante della Roma. Roma vogliamo, lo accolgono in 5.000. Sono felice, non vedo l'ora di giocare. Avrà la maglia numero 90. Oggi sarà a Trigoria. Dunque iniziata la nuova avventura italiana di Lukaku. Non più all'Inter, ma alla Roma. Tutto sport. Saranno la Juve, questo il titolo. i due giovani talenti blindati fino al 2027. Li vedete in foto. Oggi firma il Turco e si consolida il progetto futuro del club bianconero. Ascolti TV, la Juve tiene a galla una serie a incalo. La Roma invece adesso punta anche su Leo Bonucci, ormai fuori dal progetto bianconero. A proposito di Roma, una Roma pazza per Big Rom, gol dal cielo, 5.000 in delirio a Ciampino per accogliere il centravanti belga. Ed eccolo in primo piano anche sul Corriere dello Sport, The King, questo il titolo Lukaku portato subito in trionfo. Roma, che bello, un'emozione unica, davvero una grande accoglienza per Lukaku. in questo caso il Corriere dello Sport parla di 7.000 tifosi presenti per il primo abbraccio. Altri quotidiani hanno scritto 5.000, ma cambia poco. Erano comunque in migliaia felici ovviamente per l'arrivo di un grande attaccante come Lukaku. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna, ma partiamo a breve con le nostre edizioni di Spazio Notizia e dunque anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi. A più tardi. 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 Grazie.